1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi 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 Faccio che ho ribellare Ribellare, ribellare, ribellare Buongiorno, noi siamo il liceo scientifico Pietro Farinato e oggi porteremo in scena lo spettacolo Diritto alla bellezza Questi sono due dei tre attori che saranno in scena Lo spettacolo essenzialmente è un viaggio Un viaggio dell'anima, della mente, del corpo Un viaggio inteso in tutti i sensi Verso quello a cui la nostra anima ci spinge Appunto il concetto di bellezza che per ognuno di noi è diverso Lo spettacolo è composto da tanti viaggi Da viaggi diversi Lo abbiamo affrontato con immagini Con il corpo, con la voce Con la poesia La regia è firmata da Valtera Morelli E Floriana Sabato Abbiamo gli elementi scenici di Chiara Morelli E i video di Alberto Maria Abbiamo voluto esplorare il modo in cui ognuno di noi si avvicina O cerca la sua bellezza La propria bellezza che è diversa per ognuno Ognuno può dare un'interpretazione diversa alle viaggi È un viaggio per raggiungere la bellezza Un viaggio per raggiungere la nostra anima I nostri pensieri Un altro tema del viaggio è quello dei migranti Che ci raggiungono ogni anno in Italia Qualche è bello nel nostro appunto viaggio Il nostro spettacolo E che ognuno può dare un'interpretazione diversa a questo viaggio Mi raccomando venite numerosi al nostro appunto spettacolo Intitolato il diritto alla bellezza E allora vi aspettiamo tutti al nostro spettacolo E buona visione Che ognuno trovi il suo viaggio e la sua bellezza Un bacione Ciao 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 Ciao